Andiamo. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Abbiamo finito. Voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Grazie a tutti. 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 Tutto è pronto. Possiamo partire. Grazie a tutti. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Prepararsi a sinistra. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenere a sinistra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sto cercando un nuovo percorso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voltare a sinistra. Tenere a sinistra. Tenersi a destra e poi continuare dritto. Andare dritto. Grazie a tutti. 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 Voltare a sinistra. Grazie a tutti. 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 Prepararsi a tutti. Prepararsi a tutti. Voltare a tutti. Voltare a tutti. Voltare a tutti. Tenersi a tutti. Tenersi a tutti. e poi voltare a tutti. Voltare a tutti. sinistra. Andare a tutti. Uscire adesso. Andare dritto. Andare dritto e poi voltare a destra. Voltare a destra. Andare dritto e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Andare dritto. Voltare a sinistra. Andare dritto. Voltare a sinistra. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Uscire adesso. Andare dritto. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Tenergia sinistra. Tenergia destra. Tenergia sinistra. 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 Grazie a tutti. Andare dritto. Andare dritto. Andare dritto. Andare dritto. Andare dritto. Andare dritto. E poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Andare dritto. 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 Prepararsi a voltare a sinistra Attenzione! Rispettare i limiti di velocità Voltare a sinistra Rispettare i limiti di velocità Andare dritto Rispettare i limiti di velocità Andare dritto Rispettare i limiti di velocità 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 Attenzione Rispettare i limiti di velocità 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 Grazie a tutti. 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 Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Andare dritto. Grazie a tutti. Tenersi a destra. Grazie a tutti. 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 Andare dritto. Grazie a tutti. Andare dritto. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voltare a tutti. e tutti. Andare dritto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Andare dritto. Grazie a tutti. e 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 a tutti. Andare dritto. e a tutti. e a tutti. Attenzione. e a tutti. e a tutti. e a tutti. andare dritto. e a tutti. 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 andare dritto. e a tutti. 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 e tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e 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 tutti. e... 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 ... e... 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 Grazie a tutti. Tenersi a destra e poi uscire a destra. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Grazie a tutti. 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 Tenersi a destra. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Grazie a tutti. 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 Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Uscire a destra. Grazie a tutti. 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 Prendere la terza uscita. Uscire adesso. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Andare dritto. Attenzione. Rispettare i limiti di velocità. Ripararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Prepararsi a voltare a destra. Sto cercando un nuovo percorso. Voltare a sinistra. Sto ricalcolando il percorso. Sto ricalcolando il percorso. Sì. Sto ricalcolando il percorso. Sì. So. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon viaggio. Voltare a sinistra. Buon viaggio. Buon viaggio. Buon viaggio. Andare dritto. Buon viaggio. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. uscire adesso attenzione rispettare i limiti di velocità tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra voltare a sinistra attenzione rispettare i limiti di velocità 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 Grazie a tutti. 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 Voltare a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.